musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti allo mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi parliamo della sfida numero x 11 12 non mi ricordo dei 14 giorni di fortnite quella dove dobbiamo distruggere 12 decorazioni di neve andiamo subito ragazzi a vedere le location in maniera molto molto rapida per sapere come bruciarcele tutte di prepotenza ed ottenere le motte del fiocco di neve come vedete ragazzi siamo a pinnacoli pendenti e appesi ai lampioni ragazzi come succedeva per l'evento di halloween dove trovavamo i fantasmini appesi troviamo anche dei fiocchi di neve mi raccomando ragazzi di completare cercate di farla velocissimamente a pinnacoli prima che la gente vi spari perché sono veramente in tantissimi gli stronzazioni che ce l'hanno con voi ragazzi come succedeva ragazzi vi dicevo appunto per l'evento di halloween dovete completare questa sfida obbligatoriamente ragazzi in singolo o in squad mi raccomando di non farla in parco giochi andiamo avanti ragazzi direzione parco pacifico come state vedendo se riusciamo a non crepare sulla zipline dobbiamo andare avanti ragazzi e raggiungere esattamente la casa quella di fronte alla casa moderna eccola qua ragazzi quella con il bordo verde come vedete già adobata a natale ragazzi basta solo metterci sul lato e sia al piano terra quindi proprio qua dove c'è l'ingresso principale che un pochettino più in alto come potete vedere troveremo altre decorazioni natalizie invito comunque ragazzi a controllare anche un bel po di altre case perché parco pacifico ne è davvero pieno ma se invece vi capita di rimanere su passatempi pomposi ragazzi ci sono delle decorazioni anche qui ed è molto semplice trovarle bisogna andare nell'unico negozietto di passatempi proprio l'edificio sotto di me ragazzi come state vedendo ci atterriamo proprio in questo momento e al suo interno sopra il bancone ci sono altre due decorazioni natalizie che possiamo spaccare per riuscire ad andare avanti con la nostra mission altra location nella quale trovare le decorazioni natalizie ragazzi è proprio uno dei due magazzini quelli ovviamente dove c'è sprofondo stantio per la per la correzione per l'esattezza vicino all'albero di natale addobbato ragazzi qui proprio dove ci sono le finestre ragazzi troveremo altri fiocchi di neve che potremmo distruggere per andare avanti se ovviamente evitiamo sempre di rimanerci secchi ciao mazzaci ultima location e poi finalmente otterremo il nostro premio per l'ultima posizione ragazzi se non doveste avere ancora terminato la sfida basterà semplicemente recarci a corso commercio proprio alla destra del grande supermercato otterremo ragazzi altre decorazioni esattamente nel negozio big shop come vedete ragazzi un po' dove c'è la lo studio degli investigatori privati beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live ciao non parte l'altro perché non parte l'altro